Prima tappa del campionato italiano, prima tappa del nono trofeo Liguria, si prepara a tagliare Ivan Crespiani, sarà seguito da Angelo Bonuccelli. Ottimo Stefano, Enzo fa un tiro cortissimo, si è posizionato. Una bella giornata questa a Sesto Elevante. Dai! Storato! Lo levi questo? Oh, grande! Ottimo, bravo Luciano. Guardiamo Olmo se riesce con due mani e riesce anche con una mano impegnata. Non mi stai aspettando! E grande Beppe, arriva! Ora ci avviciniamo al traguardo. Vado? Spara! Ferrai! Oh, è un grande? whoo! Aiiri! Aiii, aiiii, aiii! Grazie! Altro giro! Ottimo! Agnelli! Ero brigono e Mag birra! Fevcio! coveto! Uuuh! Ohhhh! La classifica dello scorso anno si ripete in questa gara più o meno, manca solo Michele Pardini al quale mandiamo un abbraccio. La classifica dello scorso anno si ripete in questa gara più o meno, manca solo un abbraccio. Tutti i posti sono importanti per la classifica. La classifica dello scorso anno si ripete in questa gara più o meno, manca solo un abbraccio. La classifica dello scorso anno si ripete in questa gara più o meno, manca solo un abbraccio. Ivan Crespiani al tiro, deve essere corto ma non troppo. E torna a vincere Ivan Crespiani.